Ma se vuote la scena e disadorna la stanza, beh aiutateci allora voi a mettere su sostanza. Fatele voi le torri, i palazzi, le tende, i castelli, fate voi le lanci, le spade, gli scudi, i duelli. Noi ci metteremo le voci e l'arte nostra. Il Teatro Duse di Bologna ospita venerdì 21 febbraio e sabato 22 alle ore 21 e domenica 23 febbraio alle ore 16 lo spettacolo del nuovo teatro diretto da Marco Balsamo di Stefano Corsi e Marco Bagliani giocando con Orlando. Liberamente tratto dall'Orlando Furioso di Lodovico Ariosto con scene di Mimo Palladino, impianto scenico di Daniele Spirma, costumi di Alessandro Lai, disegno di luci di Luca Barbati, adattamento teatrale e regia di Marco Bagliani. Marco Bagliani, attore, regista e drammaturgo, ha trasformato i versi dell'Orlando Furioso e le donne, i cavalieri, l'arma e gli amori del nuovo spettacolo in una inedita ballata in ariostesche rime e una singola attenzione per il palcoscenico. La condursi corpo a corpo, rima dopo rima, con Stefano a Corsi. Mimo Palladino, con i suoi celebri cavalli, realizza la giostra per i duelli, gli amori, gli scontri, gli incontri dei cavalieri che appaiono e scompaiono nel girotondo che il gioco impone. Sempre in occasione dello spettacolo, sabato 22 febbraio alle ore 18, Stefano Corsi e Marco Bagliani incontrano il pubblico che vorrà partecipare alla biblioteca San Genesio della casa Lidia Borelli in via Saragozza 236, modera l'incontro il critico teatrale e giornalista Massimo Marino, l'ingresso libero, fino a esaurimento dei posti. ...invece ci rendiamo conto che svela davvero qualcosa di profondo, forse proprio dato dalla Genesi del... ...invece ci rendiamo conto che svela davvero qualcosa di profondo, forse proprio dato dalla Genesi del...